Ragazzuole ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite E oggi ragazzi vi porto una partita molto molto particolare, chiaramente in duo ranked real insieme a Queen Georgia Dove abbiamo appunto testato il nuovissimo aggiornamento che è uscito proprio qualche giorno fa Perché come saprete Fortnite appunto ha rilasciato un aggiornamento dove hanno reinserito una delle mie armi preferite in assoluto di sempre Sto parlando del fucile d'assalto di Tony Stark del vecchio capitolo 2 Ovviamente ragazzi ci sono un pochettino di differenze perché ovviamente l'assalto non è probabilmente super preciso Però fa dei danni che sono veramente fuori dal normale E in più hanno inserito anche una capsula che ogni tot tempo appunto sbuca all'interno della mappa E dove andando appunto all'interno della capsula potrete appunto ritirare i gambali di Iron Man Che vi permettono di volare a una velocità veramente fotonica e potete fare degli agguati veramente stupendi Quindi oggi andiamo a vedere appunto insieme questo nuovo aggiornamento e il panico che ho fatto appunto in Unreal Quindi ragazzoni mi raccomando prima di cominciare con il video un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 In più ragazzi molto molto importante se volete allenarvi per diventare più forti a fightare, a evitare e buildare Non vi resta che provare a giocare la mia mappa 1v1 con le ranked dove all'interno trovate tutte le armi della nuovissima season E in più potete giocare la mappa letteralmente al massimo delle performance cliccando il tastino per appunto eliminare completamente la mappa Così che vi andrà tutto completamente super fluido Giocatela, quella che vedete qua sotto ragazzi è il codice, mi raccomando allenatvi e diventate sempre più forti Allora poi ragazzi non metteci più cacchere e di passare al video, io vi auguro una buona visione Pazzesco! Doob Courters No Corte di Doom Sì più bello dai, dovremmo essere free Quindi sono io quella che l'hanno al meglio di tutti? Perché non c'è nessuno qua, vado oltre e non vado alla casa Ci vanno loro Ma ormai ci siamo molto lì per ora, perché non vengono lecissime Se faranno così suppongo di sì Rido Allora Io c'ho la R blue però non è molto buono Boh sì, l'avrei voluto oro sinceramente Io non so se sono amici questi Il drone Martina Oh oro, grazie Andiamo alla macchina, andiamo Voglio fare le bacche, capini? Sto cercando di farle da mezz'ora ma te ne vai Niente, proprio l'altra bacca non la volevi proprio, cioè incredibile Ho tanti in headshot La skin è bianca sbob... sbobbata qua sotto Dove no? Box 116 è morto Goodbye bitches C'è gente ancora? Attenta Che cure porti? Dimmi pass 3 big Fizz Fizz ok Fatelo ancora, questo è molto buono Aspetta 48 Sto volendo da te, dove sei? 8 Quindi di magnesio Ti piace come Nicky Naveen per il boss? Inizia molto bene questa partita, ti prego Oh, sento una zip Sì, qua E' una zip molto insolita No, ho messo tutti qua 48, 48, triplo Più da doppio volevo dire Ho detto un triplo inventato Da uno qua sotto però 82, scracciato 48 wet Knock Sì, ragazzi, è bollente L'altro è quello Ma ragazzi, perché quello la sta scappando con tipo Come una katana? Ma ci vedo che scappava con un item strano Eccolo lì, mi sa, sono i cosi No, no, non credo Non credo, non credo Aspetta che voglio, fammi prendere qua Perché ti fa volare proprio proiettile, però non so Eeeh Me li prendo Occhio però, perché quando scendi ti distruggono Qua c'è una macchina, ma è la mia vecchia Amici, secondo me Ok, utilizzerò Tutto, tutto Dovranno venire, vorrei prendere la schiera Andiamo Non so se vuoi provare la ferita anche Eh, ma, no, no, andiamo in zona, andiamo in zona Lo so, lo so, tranquilla Però sono fighissimi, eh, l'animazione C'è veramente un botto avanti, eh Minchia Ah, ma mi posso lanciare così? Prendo l'arma in mano e ve lo disattiva Non so se prendo full damage, però Eh, ti vado tutto, che cazzo Ragazzi, in body 48, se ce l'avete qui Io faccio 53 in body, ho tanti in HS Con loro Provo, eh Ok, non muori, ok, OP Ok, OP, ok, OP Quindi se vuoi scendere in bocca uno Però hanno fatto apposta Per proteggere, diciamo, da questa roba Hanno messo Che quando scendi il pompa Tipo non te lo mette in mano Te lo puoi, io, no? Mi serve una manina Arriva da te Una skin nera Morto, morto, morto Morto, dove arriva da te? Guarda me Ok, Iron Man e Wolverine Lì sopra Le due skin, le altre due skin che erano qua Non è giudica che ti sve... Eccolo, eccolo, eccolo L'ho visto, l'ho visto L'ho visto Vado io? Vado con te Morto Ok, non serve Direi che lì hai triturato la faccia Oh, pompa ora, cinque colpi? No, sì, cinque colpi Finalmente, ragazzi Quindi non ci credo Sono tipo, sono tipo felicissima Vuoi andare di qua, verso di qua Che c'erano... Dai, andiamo Io uso i... No, comunque Ok Questo momento è fighissimo Il fatto che ti puoi lanciare è straforte, eh Hanno fatto bene Hanno fatto bene A mettere il fatto che Non puoi scendere in bocca tipo col pompa Se non sarebbe troppo forte Sopra l'isola fightano Io potrei andare sopra l'isola così Non lo faccio, eh, però potrei farlo Vai Fightano qua Arrivo Forse non knock, forse non knock Vai, corro Qua davanti, qua davanti, qua davanti Ma è Lo distrutto, come giuro Craccato Vai, c'è il pack, questa Muore Matto Ti ho visto un attimo un po' Non hai capito? Io ho dato due colpi di assalto 37 doppi in body Pensavo morisse 41 Io ho sparato in ritardo perché... Dobbiamo ammazzare quelli con il... Il meta Vabbè, per me rispona, vado Per forza Sono quelli più pericolosi C'è uno lì, fermo 49 crack, 49 knock Vai, vai Sono anch'io Unica moving questo Qualcosa Medaglia, prendilo se vuoi Sì, sì, godo Buonissima, bravo, bravo Dunque, anche qua, no? Se vedi uno fermo E ho guardato te che avevi il mirino No, 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 stavo cercando di capire dove fosse Facciamoci te uno via Perché ha quattro body, ammazzi uno Quattro body, uccid uno Scusa, pensavo fosse... No, 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 stavo guardando Sperato per sperare aspettassi il colpo Poi lo ha hitato, poi lo ha hitato Però dico, se facciamo il 3D1 Quattro body, uccid uno Stanno fai dando, eh, qua? Uno di vita Davvero, corro da te? Sei fullboxato, eh? No, 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 c'è un muro dietro No, no, sei fullboxato Ok, vado dietro Tu spacca davanti Poi Magari se da poco dobbiamo andare via Ma dove ha spaccato? Ah, sopra è andato Non che fa troppo danno 53 in body è insano Non ha senso Ah, lo so Io ce l'ho blu e comunque fa 37 C'è tantissimo E ce l'ho blu Ah, posso fare pure delle giravolte con sti cosi Non avevo ancora... Sì, sì, con QE Ehm, lo scop... Eccolo, è da dentro, è da dentro 50 crack Vai Gli stanno sparando un altro team È nel bagno 80 Uno di vita, uno di vita, la cor È l'impulso, è l'impulso, è l'impulso No, ho fullboxato quello col medaglione Arriva Mi pare venire ansia Curati, curati, curati C'è un botto qua sotto, boxato in legno con la skin anima No, no, che cazzo, ascoltami Ok Lì sotto Ti sta curando, lì, lì, lì Dov'è? Lì Deve restare Ah, deve restare? Sì, sì, te l'ho detto È stack Lo vedo però Arrestato Voglio scendere nei box Eh, infatti non voglio scendere nei box Non rischio Non è possibile che questo sopravviva l'impossibile comunque Vada noi, vada noi, Jodo No, 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 qua 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 Ok, ok Ok 50 guaita Sto parlando qua per non farle curare Ah, la passi, la passi, la passi, la passi, la passi, la passi Vai, 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 vai Oddio Let's go, Ski Let's go, Ski, ragazzi Iron Iron per i vecchi tempi Anche se la tale Iron Iron è quello nuovo fa un po' Però Vabbè, fucile di Tony Stark comunque è fortissimo Fa troppo danno Anche in comp sarà troppo forte Fa, cioè, 51 in bo 53 in bo di quello leggendario E ho tante in HS e fuori di testa Se non mi rifà un po' meno danno Onesta, una hit, raga Mentre i gambali Ora che ho scoperto che potete utilizzarli E mettere di quel pompa in mano Così che annulla l'animazione e vi butta giù E non morite di fall damage Sta cosa è tipo troppo forte Onesta è troppo troppo forte Bene ragazzi Oggi è il tema di questo video Io spero che vi sia piaciuto Come avete visto abbiamo fatto una bellissima vittoria reale In Ranked Arrial in duo E il fucile di Tony Stark è veramente bestiale Diciamo che è un fucile che dove miri Fa 53 in body e 80 in HS Ovviamente sto parlando della realtà oro È assolutamente fuori di testa E i gambali stessi sono veramente super forti per scappare Pushare o comunque fare appunto una partita molto molto frenetica Quindi come aggiornamento io direi davvero tanta roba Quindi ragazzoli mi raccomando Come sempre se questo video vi è piaciuto Non mi resta che lasciare un bel pollice in su per supportarmi Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E vi ricordo che se volete vedere momenti come questi Non mi resta che seguirmi live su Twitch tutti i giorni Dalle ore 17 Trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione Ora però ragazzi noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rivecchiamo In un prossimo video Dalla vostra Croato Mist è tutto Bella a tutti ragazzi Ciao